Trovo molto grave quello che è accaduto in queste ore con le dichiarazioni assolutamente fuori posto del Vicepremiere Ministro Salvini. In Italia c'è una situazione molto seria che riguarda in particolare le crescenti difficoltà a conferire il materiale differenziato. Roghi in tutta Italia, quindi non c'è un tema emergenza roghi in Campania, c'è un tema criticità seria roghi in tutta Italia, in particolare in alcune zone. L'abbiamo visto, è accaduto in Campania, in Toscana, in Lombardia e in altri posti. Questo per una serie di motivi che devono impegnare soprattutto il governo. Qua c'è bisogno di una risposta seria del governo, perché se non si interviene presto, se non se ne comprendono bene le ragioni, criminali e non, se non si mettono in condizioni i territori di avere più siti in cui stoccare e lavorare il materiale differenziato, che cosa accadrà? Accadrà che gli sforzi incredibili che dalla Sicilia al Trentino Alto Adige si stanno facendo nel nostro paese per aumentare le quote di differenziata, questo circuito virtuoso si interromperà e quindi ci saranno le necessità di aumentare le quote che devono andare a bruciare, ma c'è un altro rischio ancora più imminente, che si mescolano differenziata e indifferenziata. Quindi c'è un disincentivare alle pratiche di differenziazione e si va tutto negli stir e negli inceneritori. In Campania da circa un anno sono stato il primo a chiedere, ottenere e discutere in più comitati provinciali per l'ordine di sicurezza pubblica quando ancora non c'erano la quantità di incendi che abbiamo visto da quest'estate ad oggi perché ho annusato, diciamo in questo modo, qualcosa che non mi piaceva. E non mi riferisco solo alle inchieste meritorie giornalistiche di Fanpage dove si delineava un sistema in atto, ma anche una sempre maggiore precarietà del ciclo dei rifiuti in cui incidevano delle dinamiche che se non ben inquadrate e se non si lavora bene tutti quanti insieme con l'obiettivo preciso possono portare a una situazione di criticità. Mi riferisco a una serie di gare che vanno deserte per l'evacuazione dei rifiuti che sicuramente è un tema che ci interroga. Perché le gare vanno deserte? Perché c'è una lievitazione dei prezzi delle gare? Perché accadono tutti questi incendi a macchia di lopardo? E poi una serie di attività che si stanno innestando, a mio avviso, anche di tipo politico-istituzionale che in qualche modo incidono sullo stesso ciclo dei rifiuti che è particolarmente precario. Io questo tema l'ho posto con molta chiarezza e di fronte a questo tutto serve tranne che metterla in confusione e addirittura creando una situazione di contrapposizione così grave come ha fatto il ministro dell'interno Salvini. Io credo di aver espresso in modo assolutamente chiaro il mio pensiero. La Campania non ha bisogno di altri inceneritori, ha bisogno del sostegno di tutti per far funzionare meglio gli spianti stir, per poter evacuare meglio i siti in cui c'è il trattamento dei rifiuti, accelerare come stiamo facendo noi con le procedure degli impianti di compostaggio, creare ecodistretti, creare piattaforme in cui trattare il multimateriale e potremmo continuare. La notizia politica di oggi è che c'è una piena e totale convergenza tra le nostre posizioni e le posizioni del Movimento 5 Stelle. Salvini non può pensare di venire a fare le passerelle su una città che ha pagato una delle stagioni peggiori della sua storia sull'emergenza dei rifiuti, voluta da politicanti come Salvini. Salvini faceva parte di quelle stagioni politiche, quindi loro non possono assolutamente permettersi di fare propaganda, di scherzare sulla salute di questo territorio e di dire parole in libertà senza alcun senso. Quindi mi ha fatto molto piacere che di fronte alle nostre parole, subito nette e forti, ho ascoltato con piacere le prese di posizioni oggi non solo del Ministro dell'Ambiente Costa, del Vice Premier, Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, di Roberto Figo, e mi sembra di capire da quello che ho letto le dichiarazioni di tutte le componenti del Movimento 5 Stelle. Lei ha detto poco fa che bisogna spingere per aumentare la differenziata. Oggi la SIA rende noto il dato che Napoli è superiore al 38% di raccolta differenziata. Quali azioni mettere in campo per andare sempre oltre? Il rischio di questi roghi è che si interrompe questo processo virtuoso. L'ho detto prima, io sono molto preoccupato. Noi stiamo avendo difficoltà enormi a conferire il materiale differenziato. Noi continuiamo nella direzione di aumentare i luoghi in cui conferire il differenziato. Guardate, noi siamo arrivati a una isola ecologica per ogni municipalità. Ieri abbiamo approvato due delibere in giunta importantissime perché creano luoghi grandi in cui trattare tutti i tipi di rifiuto tranne l'umido. Quindi che vanno proprio nella direzione del differenziato. Quindi trattamento della carta, del cartone, del vetro, della plastica, ingombranti. Cioè tutto ciò che serve a far aumentare il livello di differenziato. Aggiungo, e vi anticipo una cosa, per farvi capire il livello di sensibilità e attenzione. Come voi sapete, grazie a una battaglia che ho condotto personalmente e grazie anche alla sensibilità che ho riscontrato su questo punto da componenti significative del governo, sono riuscito a sbloccare 434 milioni di avanzo di cassa in città metropolitana che invece erano vincolate da gabbie normative e interpretazioni assurde dei precedenti governi. Tra le misure che sto pianificando e che metteremo in campo sicuramente prima di Natale c'è una quota importante di risorse che io voglio destinare proprio all'ambiente di tutta la città metropolitana. Perché il tema del rifiuto non lo puoi trattare a Napoli in un modo, ad Acerra in un altro, a Giuliano in un altro, a Pomigliano e a Torre del Greco in un altro. Quindi andrò a finanziare tutti i comuni che vorranno non solo aumentare le isole ecologie ma gli ecodistretti, cioè quelle piattaforme in cui poter fare anche delle piccole compostiere che consentono rapidamente di andare a aumentare il trattamento della frazione umida e tutto il differenziato. Soprattutto in quelle aree, le vorrò finanziare, di confine tra i vari comuni e anche la città di Napoli dove spesso si verificano discariche per comportamenti incivili e criminali di persone in modo che in questo modo riusciamo ad abbassare anche il rischio che già si è ridotto enormemente della terra dei fuochi e dei rughi grazie anche al lavoro che la città di Napoli ha fatto sul riciclo degli pneumatici che erano tra i principali materiali che venivano incendiati. Quindi come potete vedere in questa città c'è tanta gente che ha speso una vita su questo tema quindi noi chiediamo vigilanza massima perché si scongiurino ogni tipo di infiltrazioni criminali che poi hanno teressenze molto forti con pezzi della politica e delle istituzioni. Al governo chiediamo però di dare risposte forti sul piano dei luoghi in cui portare i rifiuti e farsi carico anche che in Italia oggi c'è un tema di scarsezza di luoghi in cui smaltire alcune quantità di rifiuti. C'è anche il tema dell'umido perché Roma ha anche molto saturato il mercato e la domanda soprattutto che a me preoccupa è perché le gare in cui c'è la possibilità di effettuare un servizio e di essere pagato in tempo reale non si partire. Quindi è chiaro, è da un anno che lo dico, che un po' di legittimo sospetto che ci sia da parte di menti criminali, menti affaristiche e sappiamo spesso chi gira attorno al mondo dei rifiuti possa avere un interesse che in Campania come in Lombardia, in Toscana come nel Lazio possano scoppiare emergenze e rifiuti che poi portano a quella gestione emergenziale che sappiamo dove ci ha portato. Oggi sono stato anche a Roma perché tra i vari argomenti noi paghiamo ancora il debito ingiusto di cui una fetta importante deriva proprio dall'emergenza dei rifiuti. Quindi, come dire, noi siamo quelli che abbiamo tolto i rifiuti da strada e noi faremo di tutto perché non tornino mai quegli interessi e che non ci siano mai politicanti di turno che pensano di speculare sulla pelle dei napoletani e farsi la propaganda sugli inceneritori e non sanno manco di quello che parlano. Perché noi difendevamo Chiaiano, Taverna del Re e tutti gli altri luoghi in cui la commissione tra politica e camorra affari voleva distruggere la vita nostra, dei nostri concittadini e dei nostri corregionali. Questa gente qua pensava a far altro, gestivano stagioni politiche opache, sono stati tra i principali responsabili dell'emergenza dei rifiuti e oggi pensano di farsi le passerelle nella nostra città e scoprono da una parte all'improvviso la bellezza di Napoli e dall'altra fanno vedere che si vogliono preoccupare della nostra salute. Se veramente tengono alla leale cooperazione istituzionale, rispettino le posizioni di chi sta sul territorio da tanti anni, si faccia una leale cooperazione, si lavori tutti insieme perché il tema non è Napoli. Il tema è Napoli, Firenze, Roma, Milano, Torino, il tema è nazionale se non mondiale. Quindi un appello al governo, alle componenti più sensibili, soprattutto al ministro Costa che so che oltre ad avere sensibilità ambientali, competenze, ha anche un'esperienza importante sul piano investigativo, tutti quanti insieme si può lavorare per scongiurare che ci sia qualcuno che voglia alterare il già precario equilibrio che c'è in campagna come altrove sul ciclo dei rifiuti.